Un giorno questo mondo sarà l'esopianeta più vicino a noi, per l'esattezza tra soli 79.000 anni, un battito di ciglia in termini astronomici. ROS 128b è stato appena scoperto da un team di scienziati grazie al cacciatore di pianeti Harps dell'ESO. Secondo i calcoli il nuovo pianeta si sta muovendo verso di noi ed è quindi destinato a rivaleggiare con Proxima B. Segni particolari Questo oggetto celeste è un clima temperato che secondo gli scienziati si aggira tra i meno 60 e i 20 gradi centigradi e orbita attorno alla stella più quieta mai trovata vicino a un esopianeta del clima così mite. Si tratta della nanna rossa ROS 128, stella fredda e flebile è considerata particolarmente pacata, non è ad esempio soggetta ai brillamenti tipici della nostra vicina di casa Proxima Centauri. Questo rende il clima su ROS 128b simile a quello terrestre. Restano tuttavia ancora molti dubbi sulla potenziale abitabilità dell'esopianeta che sarà indagata nei prossimi anni.